La parte era abbastanza complicata, ho tentato varie volte appunto, ero violentato dal fatto che dovevo assolutamente cantare male quando facevo Peppino Di Capri, dal copione, e quindi dico ma come faccio adesso che uno che canta normale, insomma, intonato, scusami sto parlando io, ma non dovresti stare al telefono. No, no, è che mi è arrivato un messaggio, non volevo farvelo vedere, però era una foto di Natale con me, Lillo e Greg, non so se la regia lo può inquadrare. Il boss c'è? No, 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 ci siamo noi, guarda che bello, noi con Luca Rè, non volevo interromperti, però visto che l'hai fatto, guarda, guarda che bellezza. Eramo giovani. E i capelli tra l'altro, neanche l'inteltoni probabilmente. Vabbè, a questo punto... No, vabbè, parlavamo di musica e di grande commedia, quindi rimaniamo in argomento, perché, sì, a volte non c'era neanche nel film, però la sua musica è rimasta, ad esempio, penso a Cooperazione San Gennaro, uno su tutti. Sì, carino. E invece in questo caso qua, appunto, mettersi in gioco è così rischiare, perché anche questo ho pensato, dovrei convincere la gente che sto recitando una parte. La gente, la prima cosa è dire, poverino, non ce la fa più, guarda, cioè come è successo con i figuranti in sala, uh, a fare così, perché? Perché poi doveva preparare la bravura del boss che cantava intonato, ciao bai, poi l'intuizione di non sapeva le parole, per cui le faceva cantare il pubblico. Insomma, tutte queste gags qua hanno fatto una bella somma di successo per il mio doppio personaggio, quindi mi fa un piacere enorme di aver superato questo esame. La grande, la grande. Devo dire, con questi support... Tra l'altro, lo potete dire, visto che l'avete scelto, mi pare l'abbia scelto Greger. Sì. Beh, è stato scelto da un gioco forza. Da un gioco forza, sì, sì. Perché, appunto, l'idea di partenza è quella di... L'idea di partenza sarebbe quella di un punto di un italo americano, un boss italo americano che vuole cambiarsi le fattezze in Di Capri e diventa Di Capri. C'è stato bravo, però, eh? È stato inercibibile.